Oh, voglio fare il mio personale appello a Castori. Allora, sei l'allenatore della Salernitana, non del Real, ma con tutto rispetto per la Salernitana. Due gol fatti, dodici subiti, ultimo posto in A. Hai un attaccante come Simi, che l'anno scorso ha fatto una ventina di gol in Serie A, e tu gli preferisci Gondo, che gli voglio bene, guardavo anche la sua serie Calciatori Giovani Speranze, perfetto. Ha fatto sei gol l'anno scorso e cinque l'anno prima, o li ho invertiti, comunque in Serie B. Mi spieghi il motivo per cui scegli lui invece che Simi? Poi, detto questo, me li ridai tu i crediti che ci ho speso al Fanta Calcio? Scrivimi un commento qui sotto, dimmi che ne pensi, tra l'altro Castori secondo me presto verrà esonerato, e iscriviti al mio canale. Ciao, buon Fanta a tutti, buon campionato a tutti, a fantagol underscore real su Instagram e TikTok. Ciao!